Allora, 12 consiglieri presenti. La seduta non è valida. De Benedetti, ieri sera lei si è presentato puntuale per l'assise, ma una spiacevole sorpresa. Eh sì, perché purtroppo il consiglio ieri non ha mai avuto luogo, non c'erano i numeri, o meglio ci sarebbero stati con l'opposizione che sono usciti e quindi non c'era il numero legale, non avevamo il numero legale e quindi il consiglio non si è fatto. Era un consiglio anche abbastanza importante perché a parte che io personalmente dovevo presentare un'interrogazione sul lavoro e lo sviluppo economico, che è un tema che stiamo portando avanti ormai da qualche anno, in cui lo stesso sindaco aveva garantito la sua disponibilità a organizzarlo, ancora non se ne è fatto niente, e poi c'era l'assestamento del bilancio, quindi non era proprio un consiglio qualunque, cioè era un appuntamento importante nei lavori dell'amministrazione comunale. La seduta non è valida. Il consiglio è rinviato a domani. Quindi questa assenza, un po' questo lassismo estivo, le lascia un po' la mare in bocca. Presentarsi lì dopo che persone come me hanno preso anche degli impegni e hanno spostato i loro impegni lavorativi per essere in consiglio comunale, insomma, mi sembra un po' una mancanza di rispetto. Quindi richiama un po', come dire, a un senso un po' più istituzionale di tutti quelli che sono impegnati nel lagone politico. Ma assolutamente, perché a parte che io da parte mia non voglio richiamare solo la maggioranza, che è la maggioranza a dover tenere il numero legale, ma comunque sia richiamo tutto il consiglio comunale, perché i consiglieri sono tutti uguali, il mandato istituzionale è il medesimo, e penso che tutti gli eletti, tutte le persone che hanno avuto la fiducia da parte dei cittadini, debbano presenziare ai lavori quando opportuno non fare questi giochetti. Cioè perlomeno per quanto riguarda le situazioni un po' più importanti, ma anche per rispetto verso i colleghi come me, che hanno sempre garantito il numero permettendo agli altri colleghi di presentare i loro documenti.